Ciao a tutte bambine! È tanto che non ci vediamo, eh? Mi mancate un sacco! Sono qua perché ho pensato di farvi fare alcuni giochi in modo tale da muovervi un pochino e anche ripassare un po' la matematica. Adesso vedrete i video che vi ho preparato per il gioco e voi potete ripeterlo più volte che volete e usando anche un po' la fantasia. Buon divertimento! Ciao! Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, venti, diciannove, 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 sedici, quindici, quattordici, quredici, quattordici, quredici, quattici, 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 quattici. Uno, due, tre, quattici, 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 qu risultato sette, cinque, più sei, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, risultato undici. Dieci, meno tre, uno, due, tre, sette, dodici, meno sette, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, cinque.